Ciao cari amici, benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars, siamo accompagnati FreeGamer, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono FreeGamer, una bella notizia, prima di iniziare il video, ho aperto per sbaglio una cassa e guardate il risultato, ho trovato Bea dopo 6 mesi, dopo 6 mesi, l'ultimo brawler che ho trovato è stato corpo 6 mesi fa a giugno, abbiamo avuto una fortuna, non ho ancora la voce, ho sclerato io, è la mia seconda volta che vedo Bugni trovare un brawler, non ci credo, io ho pensato un'altra cosa, vabbè dai, abbiamo sclerato come pazzi, posso raccontargli come è successo tutto, vi racconto cosa è successo tutto, come andrò la torzea, Bugni è entrato su Brawl Stars, intanto, non è andato al negozio, no, intanto è perso tutti gli eventi, che succede? c'era una cassetta? al negozio? no, ti sei fatto una cassa, l'hai aperta e abbiamo sclerato come pazzi, abbiamo fatto e io un poco di... gli hai perso la voce, tu? cioè, sì, ho gridato un po', sapete, la gioia dopo 6 mesi... ragazzi, e dovete sapere un'altra cosa, io ieri, gli scritti di Bugni, mi devo dire una cosa, ieri, sono registrato un video, abbiamo messo... sì, sono registrato un video, abbiamo aperto 4 megacasse nel suo accanto, le prime tre con 5 skip, mentre poi la quarta cassa con 7 skip, megacassa 7 skip, con lingua cinese, e io ho trovato l'abilità stile di Rosa, la seconda, e poi ho trovato... è la seconda di Pocho, sì, la seconda di Pocho, dovete vedere che ho fatto una buona? però ora dobbiamo provare Bea, il mio epico preferito, dai, io non lo so, dobbiamo fare rapida, vabbè... ragazzi, scrivetemi... qua c'è anche il mio portafortuna, Bonny... per il mio canale, cliccate la campanella precedente, i nostri video, lasciate... quanti altri? quanti altri? 35 per Bea! sì, 35 per Bea, e iscrivetevi pure al mio canale, che si chiama FingGamer, ovviamente, come sapete voi... no, Bull, vattene! eh, brutta ascellazza! mh, perché le ascelle mi devono fare sempre male? 5, no, 3, 2, 1... ora si scanta, chissà! ok, ok... ragazzi, dovete non vuoi la voce, pure? nooo! dai, perché ci muocio sempre? dai, il portafortuna e Bonny, statuetta di Bonny, che c'ho qua accanto a me... si che l'ha preso... e deve portare fortuna, come mi ha portato fortuna per farmi trovare Bea... ti dici... sì, perché l'hai comprato... per cui... c'è un propostone grande... va beh, anche se perdì... tanto ti danno pure le coppe, beato te... cioè... Bea, Bea... eh, con lento, con lento... oh... vai! Bea, beato te... bravo! no! attento! muri! bravo! scappa che otto a mente ti uccide... nooo! nooo! c'è... c'è... quattro coppe mi son fatto, vai... e io... trentadue... cosi... metti... facciamo rapina... facciamo rapina... facciamo rapina... vado... io le casse ne contengo per dopo... se vedi... che io gli mi fanno aperto... cinquant'una casse... manco ma... mette rapina... mette rapina... Ho capito che dovevi mettere il porto? La pina va bene, però. No, va bene, un po'. Anzi, metti a dire il primo. Sì, dai, il primo porto e la pina. Prima o seconda la pina si dà? La prima qual è? In fiamma. Ti aspetta. Va bene. Metti il fiamma, va. Per fuoco. Ragazzi, speriamo di venire questa pina. Meno male che non c'era una enzica di avversario. Se noi eravamo... Sbacciati. Sbacciati. No, abbiamo la schiena di quella vecchia di Stecca. Cioè, Stecca Brigando. Attengo. Poi sto mandando un po' la pina. Ci ha fatto una pina. Stacca forte, vuoi dire? Dai, stiamo incendendo noi. Dai, vai Stecca! Sì! Ci abbiamo fatto scoprire la grange a vita! Infatti... Grado 2 Beatrice! Evviva! Ah, e quando ho trovato io a Bea, vi devo dire che noi stavamo parlando giusto giusto di Bea. Vero. Dicevamo se trovi Bea. Questo l'ho detto io se trovi Bea. Cioè... Nooo! Almeno punti energia voglio di Bea. Attrice. Noo dai! 8 bit. 8 bit. E neanche un bonus. Vabbò. Sempre cassa in giù. Quanti... Quanti cittadini massi hai? 172! Oh, quant'è cattina cassa? Se io avrei 30 gemme, mi potrei aprire una cassa enorme poi nello shop. Rubare l'aria vai, metto io. No, vabbò. Dai così ti faccio gli ultimi gettoni stellari. Tu mangi i gettoni stellari in mano, non è la sera. Boh. Laga, dove sei porti? L'aria è portata? È lenda Bea. Ma sempre mai forte. C'è un'altra Bea avversaria. No! No, sono morto! Ah, non c'è sbaglio, non ho messo il primo. Il mio primo non va bene. La cassa, non guarda i nostri legati, no? No, no, vabbè, non vabbè. Eh, vabbè, ci hanno insegnato loro, certo. Ragazzi. No! Leon! Leon no! No! Dai, stanno andando a prendere i legati. Non che è? Stai robando. Ed è morto per lo staccare. E le staccare. E vabbè, però se no mi trovo... Aspetta, qual è il problema di conti per lui? Leon! Leon no? Sì. Aspetta che metto Leon. Bea! A trovare il brawler quando c'è con me. Ho trovato solo Bias là, che ha trovato il brawler, vero? Metto Leon ragazzi, come sapete, ho Leon a livello 9. Aspetta un attimo. Dopo possiamo fare un po' di roba alzata. Facciamo quando vede tipo alexanderio? Sì, dai. Pronto, dai. Raga, rubare cari, dobbiamo vincere là, così manca l'ultimo gettone stetta e ci facciamo un futuro. Ma secondo te è dell'altezza? Beh, anche i bassi di Leon ogni giorno. Sì, sì. Bassa. Aiuto, è il brawler. È più basso di Leon. Sì. Mortis però è più alto. No, Mortis sta rubando i nostri regali. No. Dai, là c'è l'altro regalo. Sono trovato, ma quelli, manco mi impedisco di prenderlo. Io ora li rallento. Vai. E dai, è proprio... No. Non rubatelo. Oh, fermatelo. Fermatelo. Eh, vabbè, allora non l'ho conosciuta. Certo, perché... E vabbò. Non come quella volta che le te lo sei impazzito dalla rabbia che le stavano staccando e tutto. Sì. Allora, lasciamo stare. Una cassa. No, grazie. Perché mi piace aprire cassa. Dai. Voglio gemme. Niente. Dai. Perché non mi danno mai il gemme. Come no, sei tutto bravo. Sì, tutto bravo. Allora, tre ne ho. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Cosa? Ce ne ho tre di quei cosi. Gettorio stella. Per la cassa in or... Vediamo. I minuti quanti sono? Deci minuti. Guardati che non puoi... Non c'è la digestiva. Sì. Manu. Sì. Vediamo. Vediamo. Chat. Tre su dieci ce l'ha. Io ho scoperto. grande cosa evviva dai tutto bravo l'olio però tutto bravo l'olio è il primo la seconda abilità se no basta se no se no se no se no se no se no due sei nati siamo ma era una squadra di calcio no madonna santa dai nita bananita ce la puoi fare si no si può fare ma che vai primo punto per noi ho segnato io la cazza primo punto per noi ragazzi siamo due stellati quelli tipo madonna bella stellare ci hanno no ci hanno fermati no ci provate quattro cioè siamo uno siamo tanti maschi e una femmina e due femmine e quattro maschi eh non ci provare no no raga no la perdiamo no 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 ma non ci ha fatto un giusto di sedia di Nicolato raga un bravo 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 ma tu lo sa che si possa non tu lo sa che si possa consigliare il bravo tipo io posso fare così tipo ti metto io questo e ti sto consigliendo o ti immagini la skin di bea e 13 quindi stop poi ci salutiamo da me e freddy gamer ciao